Buona giornata amici e ben trovati alla rassegna stampa di Fano TV. Oggi è martedì 30 maggio 2023 e abbiamo una santa molto famosa che si festeggia nella giornata di oggi. Vediamo subito il santo del giorno, la grafica dell'almanaco e vediamo la pulsella di Orléans, Santa Giovanna d'Arco, una delle eroine francesi che lottò per la sua fede, lottò per la libertà e fu purtroppo martirizzata in un rogo che fu poi oggetto di tante tante emozioni, tante vicissitudini, tanta storia che poi fu replicata nel corso dei secoli. Santa Giovanna d'Arco. Le previsioni del tempo prevalgono su tutta la regione, condizioni di stabilità, fatta eccezione per i settori degli appennini con rovesci e temporali sparsi. Le massime saliranno oltre i 25 gradi, le minime si sono attestate sui 16, i 20 sulle coste vanno da una direzione di nord-ovest mentre nell'interno da nord-nord-est. Le temperature sono in leggero calo, le minime in modo particolare, mentre il mare non è emosso, è calmo. E ora diamo un'occhiata ai giornali, ci sono molte notizie e oggi in modo particolare vedremo anche l'esito, lo sappiamo già tutti, l'esito delle elezioni per quanto riguarda Ancona, dove ha prevalso il centro-destra ed è un traguardo epocale per il ribaltamento politico che si è svolto nella città dorica. Ma cominciamo noi con la pagina di Fano del resto del Carlino e vediamo il successo di un'azienda, di una grande azienda, la Profilglas. La Profilglas è la prima azienda in provincia, sfiorato il miliardo di euro di fatturato. Bilancio dunque con i fiocchi, per la realtà guidata da Giancarlo Paci e dai figli, raddoppiano anche gli utili. È veramente un successo epocale quello che ha ottenuto la Profilglas, l'azienda di Bellocchi, che ha chiuso il bilancio del 2022, sfiorando il miliardo di euro di fatturato. Per la precisione, 987 milioni, con una impennata importante rispetto all'anno precedente, quando il risultato era di 796 milioni, quasi dunque 800. Cresciuti i fatturati, ma anche gli utili. Si passa da 41 milioni dell'anno precedente a 99 milioni del 2022. Pagate tutte le imposte, è quindi un utile veramente netto. Con questo balzo, la Profilglas diventa la prima azienda della provincia, mettendo al secondo posto la pesarese BS, che aveva in passato ottenuto il primato. E si piazza anche tra le prime cinque migliori aziende della regione. Quindi veramente un apporto importante per l'economia fanese, ma oserei dire di tutta la provincia. Bancarotta assolto Andreoni. Si tratta di Andrea Andreoni, condannato in primo grado per bancarotta documentale, con l'accusa di aver fatto sparire tutti i registri, tutti gli inventari e poi aveva anche altri illeciti. L'altro giorno si è visto ribaltare il quadro dalla Corte di Appello di Ancona, assolto da ogni addebito. Si tratta delle 53enne, residente a Mondolfo, che come consigliere di amministrazione, era stato travolto dal crack della Marotta Macchine, società con sede a Fano, dichiarata fallita dal Tribunale di Pesaro nelle novembre del 2014. Quindi assolto Andreoni, però ovviamente tutto il disagio e tutta la pena che ha provato in tutto questo tempo non verrà ripagata. E poi parliamo dell'appuntamento più importante di oggi per quanto riguarda il Comune di Fano, ovvero un consiglio comunale dove dovranno essere prese delle decisioni che graveranno poi sul futuro della città. Ci sono importanti progetti da finanziare. Si finanzia il completamento dell'Interquartieri a Gimarra e si finanzia il grande progetto di ampliamento della biblioteca federiciana firmato Cucinella. Ebbene oggi il resto del Carlino propone una intervista direttamente al grande architetto Cucinella, il quale dice, Fanesi, è un'occasione da non perdere. L'Archistar che ha progettato la nuova biblioteca entra nel dibattito. La politica trovi un accordo, appello. Certi progetti vanno difesi anche forzando la mano, altrimenti a rimetterci sarà tutta la comunità. Ebbene si tratta di un grande progetto e di un bellissimo progetto, quello dell'ampliamento della biblioteca federiciana. E sarebbe veramente un peccato che Fano perdesse anche questo treno. Fano è un po' abituato a perdere i grandi treni. Ricordiamo certi progetti, i gregotti per quanto riguarda il Lido, Dierna per quanto riguarda Sassonia Sud, altri progetti, i cervellati. Insomma, Fano ha avuto dei progetti di grandi architetti che poi non ha realizzato minimamente. Speriamo che questo non faccia lo stesso fine. Il progetto che è stato finanziato dall'armatore Corrado Montanari per la sua caratura nazionale ha ottenuto già nel dicembre dell'anno scorso il finanziamento del PNR per 2 milioni e 500 mila. Ed è stato l'unico finanziamento che riguarda una biblioteca che è stato approvato con il contributo del PNRR a livello nazionale. Quindi veramente è una cosa importante. È un'unica biblioteca italiana finanziata con i fondi del PNRR. Fa notare Cucinella. Sarebbe un peccato perderli. È anche difficile spiegarlo ai cittadini. Ai sindaci, ha detto ancora l'architetto, spetta il coraggio delle scelte. Porto l'esempio di Bilbao, una città cambiata grazie al Museo Guggenheim che il sindaco ha fortemente voluto. Non voglio fare paragoni, ma quanto accaduto nella città basca dimostra che nei progetti bisogna crederci. Quindi i consiglieri comunali oggi dovranno assumere questa decisione. Dovranno ovviamente approvare una delibera di modifica del bilancio preventivo che è in vigore. È già stato approvato dall'amministrazione comunale. Si tratta di cifre ingenti. In questo caso si tratta di reperire 8 milioni di euro, perché 2 milioni e mezzo già ci sono. Più poi ci sono 5 milioni da reperire per quanto riguarda l'interpartire. Insomma, veramente sono decisioni importanti che devono essere presi con ponderatezza e con serietà. E vedremo come andrà a finire. E anche i revisori dei conti mettono in guardia sul sovraindebitamento. Comunque danno un parere positivo, ovviamente dicono corre prudenza, danno un parere positivo alla delibera che giungerà con il loro placet in Consiglio Comunale oggi sul tardo pomeriggio. E guardate chi mostra attenzione per quanto riguarda le strutture di Marina dei Cesari. Gabellini guarda verso il mare. Vorrei quel ristorante al porto, ha dichiarato. L'imprenditore, che poi crediamo come presidente del Fano Calcio, conferma l'interesse per la palazzina servizi a Marina dei Cesari. C'è bisogno di migliorare l'offerta e rivitalizzare l'area, ma ad oggi le condizioni non sono allettanti, ha dichiarato. Io che nello scalo cittadino ha anche una barca, spesso mi confronto con gli amici, non si può lasciare andare tutto così. È veramente un peccato che questa palazzina, questo ristorante, che è molto bello, molto ampio, e poi è in una posizione veramente invidiabile, non abbia avuto quella fortuna che avrebbe meritato di avere. La posizione è bella, il contesto ambientale è lo stesso, ebbè c'è qualcosa che non va. E quindi può darsi che la vitalità che potrebbe infondere un Gabellini potrebbe cambiare e ribaltare la situazione. E passiamo ora agli altri comuni, passiamo a Mondolfo, vediamo come l'assessore Tiritiello mostri la chiesa di San Gervasio in Bulgaria. Infiltrazioni a San Gervasio, presto i lavori, ha detto. La splendida abbazia, monumento nazionale, sarà oggetto di interventi che consentiranno di riaprire al pubblico la cripta. Si tratta di eseguire lavori di recupero per quanto riguarda l'eliminazione di danni procurati al pavimento e all'altezza della cripta, di alcune infiltrazioni d'acqua provenienti dal vicendissimo piano stradale della 424, della cesanense, per evitare che questo fenomeno si ripeta. Ebbene, la chiesa di San Gervasio in Bulgaria è un monumento di straordinaria importanza culturale perché custodisce il più grande sarcofago di stile ravennate presente nelle Marche, riconducibili ai primi anni del V-Sesto secolo. Insomma, siamo già in età un pochino dopo il 300, quando la religione cattolica è stata liberalizzata da Costantino e quindi abbiamo questa bellissima chiesa paleocristiana che costituisce uno dei monumenti più belli delle Marche. E a proposito di chiese, vediamo anche un altro articolo a fondo pagina. La fiaccolata inaugura il santuario restaurato. Si tratta del santuario della Madonna delle Grotte di Mondolfo. L'occasione sarà la tradizionale fiaccolata a conclusione del mese mariano, quindi l'appuntamento è domani alle ore 21. A guidare la fiaccolata di domani sarà il Vescovo della Diocesi di Senigallia, Francesco Manenti. L'evento inizierà nel centro paesano, convolgerà l'intera unità pastorale di tutta la valle, perché poi il santuario emeta di intensi e numerosi pellegrinaggi che provengono un po' da tutte le località. A Urbino si parla di alloggi per quanto riguarda gli studenti, perché c'è un problema ai collegi universitari. Università è il rebus, lavori ai collegi. Non lasceremo soli gli studenti. Lo ha detto scrivendo una lettera il magnifico rettore della Università, Giorgio Calcagnini, indirizzata proprio agli studenti. Sul caso dell'adeguamento antincendio, che sa che tarda così a essere realizzato, ecco perché in questo momento gli studenti non hanno, perché poi dovranno uscire dai collegi per permettere di fare questi lavori, l'Ateneo cerca di rassicurare, minimizzeremo i disagi, ha dichiarato il rettore. Ma ancora però non si sa la gravità dei problemi, solo la progettazione esecutiva potrà chiarirlo. E quindi c'è questa tensione, questo problema a Urbino. Ma c'è anche il problema dell'ospedale, che si cerca di potenziare. Pochi i medici e i pazienti intanto aumentano. C'è stato un dibattito tra le varie forze politiche, uno dei tanti dibattiti, sul suo futuro. Giorgio Cancellieri della Lega, una legge per incentivare l'arrivo dei sanitari. Elisabetta Foschi rimanga di primo livello. Si tratta di rimanere di questo livello di qualità l'ospedale di Urbino. Rimanga di riferimento e di primo livello. E si è messo in condizioni di lavorare come tale. Questa è la richiesta che ha avanzato alla Regione. Elisabetta Foschi, in vista dell'arrivo della Commissione regionale Sanità, per quanto riguarda il nuovo piano sociosanitario che le Marche stanno redigendo e che in settimana appunto questa commissione verrà a Urbino, accompagnata dalla nomina dei dirigenti dell'azienda sanitaria territoriale. Sono due momenti concomitanti. La straducale, poca sicurezza, non riusciamo a recuperarla. Purtroppo i danni provocati al territorio dal maltempo di giorni scorsi non consentirà alla straducale di essere realizzata. Si tratta di frane e di strade dissestate. Neanche settembre è un mese utile, hanno dichiarato. Senza un aiuto per la nostra società, così parla il Presidente della Ciclo Ducale, Gianfranco Fedrigucci, senza un aiuto per la nostra società è sempre più difficile organizzare un evento di questa portata. Vediamo ancora un'azienda che ha avuto successo ma il cui titolare purtroppo è deceduto in giovane età, 68 anni, ancora non è un'età veneranda. Pedini, re dei tessuti, lanciò la Valle dei Gins. Morto a 68 anni, conosciutissimo Cordoglio a Sant'Angelo. E non solo, la sindaca di Volgopace, uno degli imprenditori più illuminati di sempre. Si tratta di Fabio Pedini, lo vediamo qui ritratto in questa fotografia al lavoro nella sua azienda. Si è sentito male domenica, domenica alle ore 23. E' stato portato in ambulanza all'ospedale di Urbino durante la notte, però si è spento per sempre, lasciando nel dolore ovviamente parenti e amici. E poi a fondo pagina, la pagina 24 del resto del Carlino, abbiamo l'esultanza dei vincitori del trionfo del Carnevale a Fossombrone, San Rocco, il Paglio è suo, e Borgo Sant'Antonio vola nella cursa. La spettacolare gara svoltasi al Campaccio, vinta dopo lo spareggio col castello di Isola di Fano, tutti i titoli delle varie specialità appunto sintetizzati in questo articolo. Vediamo anche qualche notizia che riguarda Pesaro, dove ci sono i riflessi per l'esito elettorale di Ancona. Pesaro a questo punto è l'ultimo fortino del Partito Democratico in tutta la Regione Marche, perché vediamo anche in questa tabella come ormai si è stabilizzato il panorama politico. Ebbene, ormai sindaco di Ancona è Daniele Silvetti, che si è imposto sulla sua avversaria del centro-sinistra. Sindaco di Macerata è Sandro Parcaroli della Lega, Presidente della Regione, ovviamente, Francesco Acquaroli di Fratelli d'Italia, Sindaco di Fermo è Paolo Calcinaro, un esponente delle liste civiche, ma che si riconosce col centro-destra, e poi il Sindaco di Ascoli è Marco Fioravanti di Fratelli d'Italia. Ebbene, rimane il presidio del Partito Democratico a Pesaro. La stagione politica sembra ormai a favore tutto del centro-destra, soprattutto nelle Marche, dove il passaggio da Regione Rossa a simbolo del cambiamento meloniano, ovvero della Meloni, e la Giunta regionale guidata da Acquaroli ha puntato sulla vittoria del Comune di Ancona e l'ha ottenuta e ha dunque sgominato anche questa roccaforte. E quindi la Regione Marche assume un nuovo colore politico. Ci sono poi ovviamente tanti commenti in merito alle elezioni di Ancona, lo vedremo dopo sulle Corriere Adriatico. Intanto, per quanto riguarda Pesaro, voglio evidenziarvi il trasloco delle bancarelle a San Decenzio che viene contestato in modo particolare per quelle delle alimentari. Il nodo infatti riguarda i cibi che devono spostarsi sotto l'antennone. Avevano fatto anche una petizione, ma in Comune si dice che non l'hanno vista. E poi vediamo un nuovo processo a cui deve rispondere Carriera, il noto ristoratore. Diffamò il capo della mobile, Carriera chiesta condanna a sei mesi. Odienza, si è svolta un'udienza nel Tribunale di Pesaro sul caso della cena vietata ai tempi del Covid, organizzata dal ristoratore in un suo locale. Non doveva farlo perché c'era un'ordinanza precisa che vietava appunto questi assembramenti. Carriera l'ha fatto ed ora si trova a risponderne de fronte al giudice. Sotto accusa le sue parole e un video girato durante i controlli della polizia. Il dirigente Badioli lo denunciò. Ieri è stato il giorno della requisitoria del PM e le ringhe degli avvocati. Il PM Federico Guarella ha chiesto il minimo della pena, sei mesi per il ristoratore e la soluzione per la sua compagna. Gli avvocati di Badioli hanno insistito per la condanna invece di entrambi gli deputati. Per avere la sentenza però bisognerà aspettare il 15 giugno prossimo. Poi vediamo anche una persona di cui si sono perse le tracce ma che ogni tanto si vede e si espunta, quindi non dovrebbe essere in pericolo di vita. caccia al commercialista sparito avvistato in un ristorante di Rimini. Si tratta di Matteo Fabrizioli che è stato visto a fare colazione e pranzare in un locale di Rimini. Acquista sempre più l'ipotesi dell'allontanamento volontario. I familiari hanno denunciato la sua sparizione ma i suoi avvistamenti lasciano supporre che non sia in pericolo. sembra che si sia allontanato a seguito di una lite in famiglia. Risulta però in buone condizioni di salute. E un'ultima notizia per quanto riguarda Pesaro sul resto del Carlino. Si riferisce al passaggio delle Mille Miglia, la storica corsa automobilistica. Pronti al via, passa la Mille Miglia, la bella dell'epoca, sfilano in centro. Bene, saranno 500 le auto tra quelle storiche e le supercar che spunteranno da piazza Lazzarini e poi sosteranno alla palla di Pomodoro. Ancora ignota la lista dei VIP, però ci saranno persone note all'interno degli abitacoli. E la direttrice dell'Aci Amati dice uno grande spot per Pesaro 2024. Ebbene, il prossimo mercoledì 14 giugno in centro città arriverà le Mille Miglia. Ebbene, arriveranno tra le 8.30 alle 13.30 fino alle 14.00. Insomma, le auto arrivano da nord, da San Marino e percorreranno la statale adriatica per prendere poi la direzione del centro città passando per il Ponte Vecchio. C'è tutto un itinerario poi che seguiranno nel centro della città di Pesaro per farsi vedere. Insomma, queste belle signore d'epoca devono mostrarsi per farsi ammirare. Ed ora diamo un'occhiata al Corriere Adriatico. Abbiamo parlato di elezioni e vediamo subito le pagine che il Corriere dedica all'esito delle elezioni di Ancona. Ecco qua. Ancona passa a Silvetti. È un'impresa storica. Sarò il sindaco di tutti. Ha dichiarato il centrodestra ottiene al ballottaggio la vittoria inseguita da 30 anni. Adesso ci attendono le sfide importanti. Ha dichiarato il nuovo sindaco feste in piazza e caroselli. E quali sono queste sfide? Ebbene il Corriere le elenca in nove punti e in due pagine sono queste che ha dedicato ai progetti che il nuovo sindaco intende realizzare. Il nuovo sindaco ha promesso di realizzare. Ebbene c'è la stazione marittima da ripristinare. La penisola al porto da 270 milioni e anche lo scalo antico che deve essere libero e poi un metro di superficie fino alla riviera. L'anfiteatro romano sul colle di Ancona che deve essere valorizzato. Il cardeto inserito nel parco del Conero via agli arredi horror in centro più decoro. queste fioriere non sono affatto belle. Poi movida per i giovani e alloggi per gli studenti. Grandi contenitori urbani ci sono delle scadenze serrate e l'irca non diventi un ospedale fantasma. Questi un po' sono i punti che il nuovo sindaco di Ancona ha promesso di realizzare. Vediamo la pagina di Fano del Corriere Adriatico dedicata allo stato di nuovo stato di agitazione della marineria fanese perché il blocco che l'Unione Europea sta per decretare della pesca strascico è vero danneggia tutti i pescatori. Pesca strascico così non va. Tonino Giardini portavoce del gruppo pesca di Fano dice non è pensabile adottare un provvedimento senza un piano di riconversione. Ebbene tra poco anzi esattamente il 26 giugno ci sarà una riunione dei ministri europei che si riconoscono appunto nella Unione Europea per dire sì o no ad una proposta del commissario della pesca il quale dice bisogna eliminare completamente la pesca strascico perché danneggia il fondo marino senza alcuna alternativa senza alcun finanziamento i pescatori dovrebbero di punto in bianco abbandonare le loro barche porle in disarmo e pensare ad un'altra attività. Pensate quale problema incombe dopo quello del gasolio dopo tutto quello che compete appunto all'attività estenuante laboriosa faticosa dei pescatori che è stato in passato. che fine ha fatto la campagna di indagine geologica è un punto interrogativo questo che propone il gruppo consigliare di Fratelli d'Italia dopo i danni del maltempo i consiglieri Tarsi e Pierpaoli chiedono interventi a Seri vediamo soprattutto gli allagamenti che si sono verificati a Ponte Sasso dove Rio Crinaccio è sempre un fosso che crea problemi e poi anche il Corriere Adriatico parla della variazione di bilancio che dovrà essere votata oggi in consiglio comunale che è stata preceduta da una problematica realizzazione della commissione che avrebbe dovuto preparare i lavori per poi la delibera in consiglio il presidente della commissione ribadisce che dopo aver ritenuta chiusa quella commissione perché era venuto a mancare il numero legale non poteva essere continuata come in realtà è stato fatto e un'ultima notizia voglio parlarvi dell'Arzilla lavori in ritardo oppure ancora da iniziare per l'Arzilla l'estate è in salita tratto di ciclabile ancora incompleto e inutilizzabile Benini è la mappa dei disagi e Luciano Benini di Bene Comune che evidenzia come ancora la pista ciclabile dell'Arzilla sia in alto mare e questa era l'ultima notizia Massimo Foghetti vi saluta e vi dà appuntamento a domani alle ore 7 grazie per l'ascolto a risentirci grazie a tutti figli grazie a tutti Grazie a tutti.